Sanremo 2023, Amadeus torna a parlare del Madame, sarebbe un gravissimo errore se tra i big in gara quest'anno al Festival di Sanremo anche la cantante venne da Madame. La ragazza è finita nell'occhio del ciclone per un possibile coinvolgimento nella vicenda di Green Pass falsificati per evitare la vaccinazione da Covid-19. In molti pensavano che la cantante venisse estromessa dalla Kermes ma così non è stato. Amadeus aveva infatti dichiarato. C'è un'indagine in corso e si è innocenti finché non si viene dichiarati colpevoli. Ad oggi Madame è in gara a Sanremo, poi vediamo cosa accade da qui al Festival. Ieri, durante la prima conferenza stampa pre-Sanremo, Amadeus è nuovamente tornato sulla questione. Sarebbe un grandissimo errore se estromettessimo Madame dal Festival di Sanremo. Ci sarà un'indagine. È escluso che lei si possa ritirare o che io la mandi via. Sarebbe un'indagine in corso e si possa ritirare o che io la mandi via. Grazie. 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 Grazie.